Dentro il pallone per Girardino, Girardino la porta del ranche vicino alla bandierina, cerca il 1-1-1, Girardino, dentro del pieno, nel pieno, no! Inzaki, 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 Super! Pippa Inzaki! Si è inserito con il tempo giusto, poi davanti al portiere ha aspettato, ha visto che arrivava Barone sulla sua destra, però insomma a quel punto è andato con l'azione personale, vedi lo guarda, non sa anche lui che cosa fare, a quel punto lo salta con grande facilità e mette dentro.